Musica Finlandia e Svezia verso la Nato Non finiremo come Kiev, affermano le premier mezzi militari russi avvistati al confine Giovedì santo inizia il triduo pasquale nel pomeriggio il rito della lavanda dei piedi compiuto dal Papa in forma privata in un carcere Oltre 5 milioni di euro nelle tasche dei furbetti del reddito di cittadinanza smascherati dai carabinieri Buongiorno, bentornati al TG2000 La guerra in Ucraina non conosce tregua e non c'è limiti all'orrore per i crimini compiuti contro i civili Federico Plotti L'incrociatore della flotta russa affondato nel Mar Nero è stato colpito da due missili ucraini La conferma questa mattina arriva direttamente da Kiev che rivendica l'azione L'equipaggio sarebbe in salvo, evacuato prima che la nave affondasse Ma ad essa o ad essa si teme la rappresaglia di Mosca Poco fa due forti esplosioni si sono verificate vicino al porto della città Al momento non si segnalano vittime Ucraina al contrattacco anche sul fronte orientale Tra Kharkiv e Donetsk, un drone di Kiev ha colpito e distrutto un'intera colonna di mezzi in spostamento verso Izium punto di raccolta delle forze russe provenienti da altri fronti e destinate a partecipare alla grande offensiva finale in Donbass Intanto, dopo oltre 40 giorni di assedio Mariupol è prossima alla caduta Dopo aver conquistato il porto i russi puntano adesso al centro della città ultimo bastione della resistenza ucraina la città è ormai completamente distrutta oltre il 90% delle case e dei palazzi ridotte in macerie centinaia i soldati ucraini fatti prigionieri come dimostrano queste immagini diffuse da Mosca anche Kiev conferma la resa ma solo di una parte della 36esima brigata marine Intanto, dal distretto della capitale continuano ad arrivare notizie di fosse comuni e di civili uccisi indiscriminatamente Trabuccia, Borodianca, Irpin e altre città sono stati recuperati finora i corpi di oltre 760 persone 30 erano di bambini Ed il presidente americano Biden accusa ancora il russo Putin di cercare un genocidio gelo intanto tra Mosca e Berlino Caterina Dall'Olio Putin sta cancellando persino l'idea di essere ucraini Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia l'accusa più pesante al suo omologo russo quella di genocidio un climax verbale che tocca il suo punto più alto dopo le accuse di criminale di guerra e macellaio e l'ipotesi di una pace raggiunta grazie al dialogo e all'azione diplomatica si allontana di ora in ora Secondo Biden le prove di uno sterminio razziale stanno aumentando saranno i giuristi a livello internazionale a trarre le conclusioni su questo ma per lui non ci sono già dubbi Il portavoce del Cremlino risponde che è inaccettabile una simile accusa soprattutto da Biden, leader di un paese le cui azioni nella storia recente sono ben note il ministro degli esteri russo ha poi comunicato di aver imposto non meglio specificate sanzioni contro 398 deputati americani 87 senatori canadesi e la Cina che spalleggia la Russia accusa l'America di alimentare le tensioni l'affermazione di Biden spiazza anche gli alleati europei il primo a uscire allo scoperto è il presidente francese Macron bisogna stare attenti a quel che si dice afferma subito e queste parole non piacciono a Volodymyr Zelensky che è sempre più soddisfatto invece dal comportamento degli Stati Uniti un ulteriore gesto di allontanamento dai paesi dell'Unione Europea dopo il bollino impresso al presidente federale tedesco Steinmeier di persona non gradita a Kiev poi sono arrivate le parole del cancelliere Scholz che in un'intervista ha definito irritante il no di Zelensky segnando un'ulteriore frizione tra Kiev e Berlino e mentre si discute dell'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia arriva la minaccia della Russia quando accadrà dovremo rafforzare le truppe di terra e della difesa aerea nel golfo di Finlandia e questa mattina nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ha presieduto la messa del Crisma nel pomeriggio il Santo Padre si recherà nel carcere di Civitavecchia per celebrare in forma privata la messa in cena domini e laverà i piedi a 12 detenuti e proprio durante la messa a Crismale Papa Francesco rivolgendosi ai sacerdoti ha ribadito il pericolo dell'idolatria e l'importanza per un cristiano di vivere unito a Cristo unica via per discernere ogni giorno ma ascoltiamo le parole del Papa un primo spazio di idolatria di idolatria di idolatria nascosta si apre dove c'è mondanità spirituale che è una proposta di vita e una cultura una cultura dell'effimero una cultura dell'apparenza una cultura del macchigliash il suo criterio è il triunfalismo un triunfalismo senza croce e Gesù prega affinché il Padre ci difenda di questa cultura della mondanità questa tentazione di una gloria senza croce va contro la persona del Signore va contro Gesù che si umilia nell'incarnazione e che come segno di contraddizione è l'unica medicina contro ogni idolo la mondanità ma di andare cercando la propria gloria ci ruba la presenza di Gesù umile e umiliato Signore vicino a tutti Cristo dolente con tutti quelli che soffrono adorato dal nostro popolo che sa chi sono i Suoi veri amici un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato un sacerdote mondano non c'è un altro che un pagano clericalizzato in Terra Santa la Pasqua 2022 riapre alla speranza anche del ritorno dei pellegrini andiamo subito a Gerusalemme dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti buongiorno Alessandra buongiorno si stanno tornando i pellegrini noi ci troviamo qui davanti alla Basilica del Santo Sepol adesso la piazza deserta perché vedete alla mie spalle il portone che è chiuso riaprirà solo nel pomeriggio e questo accade ogni giovedì santo al temne della lunga liturgia che qui per lo status quo prevede la celebrazione della messa crismale ma anche il rito della lavanda dei piedi presieduti dal patriarca latino Monsignor Pizzaballa ha ricordato ai fedeli che l'unico potere della Chiesa è la croce di Cristo e l'amore che la abita ed è l'unica possibilità anche per stare davanti alla sofferenza quella violenza ciclica che purtroppo insanguina la terra santa questa violenza in questi giorni si è scatenata in particolare nei territori palestinesi dove sono in corso da giorni operazioni dell'esercito israeliano seguite ai sanguinosi attentati di quell'ultimo a Tel Aviv ieri ci sono stati cinque palestinesi morti in questi scontri e diciamo che l'allerta sicurezza è alta anche qui a Gerusalemme e in particolare sotto i riflettori della giornata di domani perché per i cattolici sarà il venerdì santo ma comincia anche la Pasqua ebraica soprattutto è un venerdì di ramadana quindi nella spienata delle moschee ci saranno migliaia di fedeli musulmani sono anche annunciate proteste al checkpoint e sappiamo che qui purtroppo anche ogni minima provocazione può diventare davvero la miccia di un incendio grazie ad Alessandra a lutto nel mondo della comunicazione è morto ad erba in provincia di Como Don Mario Galbiati 92 anni fondatore di Radio Maria e di Radio Mater una vita al servizio della Chiesa con la vocazione di portare a milioni di persone attraverso la radio il sostegno della preghiera e proprio sull'importanza fondamentale di organi di stampa indipendenti si è soffermato oggi a Messina il presidente Mattarella Luciano Piscaglia un importante e doppio anniversario quello celebrato ieri sera al teatro Vittorio Emanuele di Messina con la consegna al presidente della Repubblica Sergio Mattarella del primo internazionale Bonino Puleio i 70 anni di vita della Gazzetta del Sud e i 50 anni di attività della fondazione Bonino Puleio l'ente no profit azionista di maggioranza della società editrice della Gazzetta del Sud e del giornale di Sicilia un'occasione per sottolineare da parte del capo dello Stato il ruolo fondamentale importante e prezioso degli organi di informazione in particolare in questo tempo segnato dalla pandemia ed ora anche dalla guerra in questo scenario si agitano anche tentativi di notizie false di nascondere la verità di nascondere realtà di nascondere fatti ecco ecco l'importanza della Stato degli organi di informazione indipendenti si manifesta ancora una volta fondamentale in un sistema informativo che non preclude alcuna voce ma che non si ma che non subisce i falsi che sa informare per una capacità critica autonoma e propria i suoi lettori i propri lettori sui fatti e le realtà ricevendo il premio dal presidente della fondazione Bonino Puleio Lino Morgante Sergio Mattarella ha sottolineato anche l'importanza per la democrazia della presenza di testate radicate nel territorio con un forte rapporto con le comunità ed ha ringraziato la fondazione che con la Gazzetta del Sud e il giornale di Sicilia unisce sul versante editoriale Calabria e Sicilia restiamo in Sicilia Palermo è morta Letizia Battaglia la fotoreporter testimone della lotta alla mafia aveva 87 anni celebre il suo scatto del presidente Mattarella mentre cerca di portare aiuto a suo fratello Pier Santi colpito a morte nel 1980 da Cosa Nostra e veniamo alla cronaca con le false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza i carabinieri negli ultimi mesi hanno denunciato quasi mille persone Luigi Ferraiolo dal primo gennaio 2021 a febbraio 2022 oltre 5 milioni di euro sono finiti nelle tasche di persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza i risultati ottenuti dai nuclei dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro sono sorprendenti la benemerita ha denunciato 955 persone per violazione delle norme c'è chi ha omesso di dichiarare le proprietà chi ha detto il falso su famiglia e reddito la residenza le misure di prevenzione o cautelari a proprio carico o di familiari chi lavorava in nero stranieri che hanno dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da 10 anni per ottenere il contributo le irregolarità emerse tra Lazio e la regione con maggiori casi Toscana Marche Sardegna e Umbria sono il 10% circa delle persone controllate quasi la metà dei truffatori sono stranieri ben 472 ed ancora cronaca è stato assicurato alla giustizia dalla polizia postale un uomo di 49 anni disoccupato residente nel Catanese ritenuto responsabile di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografia nel corso della perquisizione dei suoi computer sono stati rinvenuti oltre 2700 video di pornografia minorile che venivano scambiati tramite un gruppo internazionale di Whatsapp l'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di ingente detenzione di tale ripugnante materiale ed un nuovo video inchioda le proprie responsabilità alla polizia degli Stati Uniti ancora protagonista di violenze nei confronti di un afroamericano Letizia Davoli uno stop per un controllo ad un semaforo una collutazione e poi lo sparo che ha ucciso Patrick Lioia giovane afroamericano durante uno scontro con due ufficiali della polizia del Michigan è successo il 4 aprile ma le immagini di quanto è successo quel giorno sono state diffuse solo nelle ultime ore e provengono da quattro diverse telecamere quella indossata da uno dei due poliziotti quella dell'auto della polizia una di sorveglianza e un cellulare al momento la polizia non ha diffuso il nome del poliziotto che ha sparato uccidendo sul colpo il giovane si sa solo che è stato momentaneamente sospeso dal servizio in attesa di un'eventuale incriminazione la famiglia della vittima si è affidata a un noto avvocato dei diritti civili mentre diverse manifestazioni di protesta hanno costretto la polizia a circondare con un cordone di sicurezza il proprio quartier generale nel video si vede chiaramente il giovane fuggire opporre resistenza agli ufficiali dopo la richiesta del controllo della patente di guida poi il tentativo dei poliziotti di mettergli le manette e infine lo sparo sul corpo del giovane Patrick verranno effettuate un'autopsia un esame tossicologico che verranno resi pubblici alla fine delle indagini arrivano anche alle elementari insegnanti di educazione fisica diplomati all'ISEF firmata dal ministro dell'istruzione Bianchi l'ordinanza di ratifica Barbara Masulli le porte delle scuole elementari dal primo settembre si aprono per 2200 insegnanti di educazione fisica diplomati ISAF per iniziare le lezioni saranno rivolte solo ai 25.000 bimbi del quinto anno almeno due ore a settimana dall'anno successivo toccherà anche ai più piccoli del quarto col tempo l'insegnamento dello sport sarà esteso a tutto il ciclo primario serve una legge al momento bloccata in Parlamento il ministero per arruolare personale potrà attingere dalle graduatorie già esistenti ossia quelle di scienze motorie delle scuole medie e superiori inizialmente infatti verranno stipulati solo contratti di supplenza in attesa di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato per realizzare questo obiettivo nel 2022 sono stati investiti in legge di bilancio 30 milioni di euro che diventeranno 170 regime un risultato storico scuole e sport camminano insieme sin dai primi anni scolastici ha detto la sottosegretaria avezzali un'importante novità che riguarda il benessere psicofisico dei nostri bambini le parole del ministro Bianchi è tutto vi lascio a terza pagina allora solare ma in chiusura vi proponiamo l'appello di ieri del Papa che dopo l'Angelus ha chiesto di fermare il massacro in Ucraina l'appuntamento con il TG2000 torna alle 14.55 buona giornata